E dopo la scuola di Adro, che tanto aveva fatto discutere, arriva anche la scuola di Ancarano, diventata oggetto di polemiche politiche. Siamo in Abruzzo, in provincia di Teramo, dove ad alcuni ignari alunni della scuola materna sono stati consegnati, alla vigilia delle festività natalizie, alcuni regali con il simbolo del Partito Democratico. Pare che i doni siano stati consegnati dal segretario comunale del PD e entrato nella scuola per consegnare, questa è la versione ufficiale, giochi a nome del partito. Il fatto ha scatenato l'ira dei genitori, è improponibile, hanno tuonato, che dei bambini vengano strumentalizzati per scopi politici, un comportamento mai accaduto finora. In effetti sono stati donati giochi che recavano proprio il simbolo del partito, dietro il quale in molte hanno visto una volontà di indottrinamento assai discutibile. Se il PD è in crisi e cerca voti, questo di certo non è il modo migliore, commentano i genitori di Ancarano, mentre il sindaco Panichi si è già dissociato dall'accaduto e ha convocato i vertici comunali del partito per poter fornire spiegazioni ai genitori. E così dopo i banchi e i posa cenere con la rosa celtica, ecco che arrivano i regali di Natale marchiati PD, regali poco graditi e rispediti al mittente, malgrado il vestito rosso. Infatti finora Santa Claus non ha mai avuto una connotazione politica.